Abbiamo avuto un primo approccio molto contente, diciamo, siamo stati comunque sbagliati, poi siamo riusciti a recuperare secondo il tempo, siamo riprese, abbiamo puntato più sulla corsa e sulla difesa, il fortiere nel secondo tempo ha parato quasi tutto, quindi è stato una cosa molto positiva. Adesso domani abbiamo la prossima partita, speriamo di recuperare un po' le forze, perché dopo una partita così vediamo, ce l'abbiamo domani sera alle 8, quindi dovremo recuperare in tempo e speriamo di recuperare in tempo. Sicuramente domani torneremo in campo con la stessa grinta che avevamo oggi all'inizio, nel secondo tempo qualcosa non è andato, facili anche sbagliati e quindi chiaramente il punteggio non sale. Domani ce la metteremo tutta per riprenderci e comunque tutto può ancora succedere, quindi ce la metteremo tutta. Sapevamo che sarebbe stata dura e si è dimostrata, si sta dimostrando duro. Grazie a tutti.